Anch'io in Arcadia! Sarebbe difficile fare il resoconto di questa giornata. Dopo l'ascensione ai Camaldoli, una escursione in carrozza fino a Pozzuoli, allegre passeggiate a piedi nella regione più bella del mondo. Sotto un cielo purissimo, un insicurissimo suolo, rovine di un fasto inconcepibile, spoglie desolate, acque bollenti, caverne che esalano zolfo, vulcani che si oppongono alla vita vegetale, spazi nudi ed esolati. Eppur finalmente una vegetazione sempre rigogliosa che penetra in ogni angolo attaccandosi su tutto ciò che è morto, intorno a laghi, roscelli, rivestendo infine del più bel querceto le pareti di un vecchio cratere. Ecco sì, si è sballottati fra la natura e la storia. 2 marzo. Voglio ripensare al viaggio di ieri con più ordine. Il vero ingresso ai Campi Ardenti da Napoli è la Grotta di Pozzuoli. Su di un poggio soprastante l'ingresso è il sepolcro di Virgilio, vero nume tutelare di Napoli e dei campi felegrei, che all'aspetto di quei luoghi ispirò tutto il libro sesto dell'Eneide. Un amico tedesco, entrato nella grotta di Pozzuoli qualche sera fa al tramonto, me ne aveva descritto l'incanto. Nulla di tutto ciò all'alba, ma l'attraversamento di questo scuro e polveroso budello rende più allegra e gioiosa l'uscita all'altro lato nella regione più bella e luminosa del mondo. All'uscita dell'oscura e maleodorante cripta neapolitana, lasciata la strada maestra, prendemmo un viottolo che conduce al lago Dagnano, avviandoci ad esplorare quel fenomeno naturale che risponde al nome di Grotta del Cane. Dopo poco due cani si misero a correre davanti al nostro curriculum ed un uomo salì dietro. Erano il detentore delle chiavi della grotta e gli animali su cui si faceva le esperienze. Insomma, il gran sacerdote e le sue vittime. Giungemmo alla porta della grotta. Il cane destinato all'esperimento tremava, presago del suo destino. Spalancatasi la porta, era già semimorto. Il padrone lo spinse nella grotta. Presto un tremito convulso si impadronì di lui. Cadde, agitò le gambe come in una crisi di agonia. Poi di colpo rimase immobile. Lo credemmo morto, ma era solo svenuto. Il padrone lo tirò fuori, riprese i sensi e in un lampo partì come una freccia, fermandosi solo a cento passi su di un poggio dal quale sembrò contemplare, con sorpresa, la ritrovata vita e la crudeltà degli uomini. Quegli animali erano destinati a chi non si accontentava della perdita dei sensi del malcapitato cane e voleva assistere allo spettacolo della morte. I cani costano troppo cari, quattro piastre a testa, credo, ma per un carlino si può fare morire la ranocchia, per due carlini la serpe, per tre il porcellino d'India e per quattro il gatto.